Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Buongiorno a tutti in questo appuntamento con Mattino 6, martedì 22 novembre 2016, pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani nazionali e locali. Sulle testate nazionali tengono banco le parole del Papa scritte in una lettera per il perdono nei confronti di chi ha commesso l'aborto. Poi chiaramente il botta e risposta tra coloro che portano il sì al referendum costituzionale e coloro che portano il no. Poi parleremo chiaramente anche dei principali fatti che riguardano la nostra regione con anche il sostegno dei servizi realizzati ieri dalla redazione del TG6. Iniziamo la nostra rassegna con le prime pagine, intanto delle quattro edizioni del centro con il medesimo titolo d'apertura che è il seguente. Veleni di bussi, paghi la Edison, lo chiede la regione. Altre sorprese dalle indagini di Campobasso. E poi ancora verso il referendum, Grillo picconate sul sì, Renzi vende fumo. La fotonotizia, Dogliola, un piccolo paese in provincia di Chieti, capitale abruzzese delle multe, automobilisti nel mirino, la classifica di Open Police. E poi i richiami di cronaca, l'Aquila e ladri rubano la cassaforte all'Eurospin, sempre l'Aquila appalti e favori post-sisma in 13 a giudizio. Avezzano, tir piomba in una villa, muore l'autista. E poi ancora in basso, giunta regionale, il suo PD lo processa, Di Matteo pronto a lasciare. Accordo sui trasporti, merci abruzzesi viaggiano sui treni sangritana. E poi sigarette illegali a metaprezzo, intera famiglia accusata di associazione per delinquere ad Avezzano. Mentre a Canistro, Santa Croce, indagato il patron Colella. E ora la prima pagina dell'edizione di Chieti, che presenta questi richiami di cronaca. Poglio in coma dopo la caduta dalla Scarpata. Lanciano, legambiente, fogne nel feltrino sono ecoreato. E poi vasto, fallimenti ogni anno, 100 case all'asta. E poi ancora in basso, a filetto, sempre nel chietino, rapinata con pistola alla testa. Donna colta da malore, ma poi i banditi l'aiutano. A vasto, risarcimento collettivi per i danni dei cinghiali. E ora siamo nell'edizione di Teramo. Ecco qui i richiami di cronaca. Il delitto, l'artigiano attirato in una trappola. Parliamo del piastrellista di Tortoretto, Demetrio Di Silvestre. L'arresto resta in cella per il fendente al fidanzato, in riferimento alla coppia di Teramani a Ventimiglia in provincia di Imperia. Terremoto, nuove scuole, la Tercas mette i soldi. In basso per lo sport, calcio di Lega Pro, Teramo, il nuovo DS è bolla. Campitelli sceglie un emergente per risalire la china. Per il basket di A2 il roseto si gode un pubblico da record. E ora andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara. Con questi richiami a penne, tessile in crisi, protestano 400 operai. Pescara, asse attrezzato in sicuro e senza polizia. Monte Silvano, Senegalesi in arrivo lo sgombero. E poi in basso, sfrattato Cico in via Firenze. Addio pausa caffè, il bar chiude. Venivano i furbetti del cartellino, ora hanno paura. E per il calcio, la nazionale dei giovani. C'è anche Biraghi che è stato convocato ieri nello stage che ci sarà fino al prossimo 23 di novembre, cioè domani. Adesso andiamo a vedere la prima pagina del messaggero. Abruzzo, sisma e appalti, 13 a giudizio, puntellamenti e lavori di ricostruzione, corruzione, turbativa d'asta, le imputazioni contestate dal gruppo dell'Aquila, costruttori e funzionari, auto e viaggi come tangenti. Poi sotto la testata, città simbolo, contratto scaduto, sfilano a penne i lavoratori della moda, cuore di rapinatori, chieti, offrono un bicchiere d'acqua alla vittima spaventata. Poi in Serie A Pescara torna su Bovo per blindare la difesa. Poi l'ecidio di Pietranzieri, il ricordo della strage con gli studenti, anche bambini, tra le 128 vittime dei tedeschi, solo una si salvò. La fotonotizia, scrutatori, lo scandalo voluto dalla casta consigliera denuncia, ha bloccato la mozione anti-amici. E poi contrabbando, ecco la fabbrica delle sigarette, blitz della Guardia di Finanza d'Avezzano, sotto sequestro, 6 tonnellate di tabacco. Giulianova, il diritto, rito abbreviato per di Silvestre. Il processo partirà il prossimo 21 di dicembre. E adesso andiamo con la città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così, ha tirato in una trappola. Ad uccidere il piastrellista potrebbe essere stato qualcuno che stava aiutando. E poi la fotonotizia al centro, il secondo primo giorno di scuola. Gli studenti di San Giuseppe e Savini alla Molinari. Poi ancora sotto la testata, incidenti immortali, quasi raddoppiati a Teramo. I dati dell'Istat, male, capoluogo e costa. E poi ancora, chiesto il processo per il crack di Mario, 450 milioni di euro. E poi ancora, 20 miglia, la coltellatrice di Atri fa scena muta e resta in carcere. L'omicidio di Giulianova, la compagna della vittima, urla in aula il suo dolore. In basso, lega pro, il Teramo passa nelle mani di Bolla, responsabile dell'area tecnica. E poi l'editoriale del direttore Alessandro Misson, di Polo in Frasca. Sempre in riferimento alle dinamiche delle scuole a Teramo. Dunque abbiamo visto la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Possiamo ora passare in rassegna alle prime pagine delle principali testate nazionali. Iniziando dalla Repubblica, il Papa e l'aborto. Sì al perdono per donne e medici. È peccato grave, ma non ci sarà più la scomunica. Critici, i vescovi conservatori, si rischia di minimizzare. Poi Isziguro racconta la sua creatura. Vi presento il mio clone, invecchieremo insieme. E poi lo scenario politica estera, le tre destre della Francia. E la sinistra che non c'è, equilibri cambiati dopo il primo turno delle primarie. E poi ancora in basso, referendum scontro tra Renzi e Grillo. Sui mercati cresce l'allarme per l'Italia. Il Movimento 5 Stelle, il sì, è un serial killer napolitano. Oramai i toni sono aberranti. E poi in basso, sabato, contro il femminicidio, al corteo antiviolenza. I maschi vanno in coda. Avanti con il messaggero aborto. Il Papa rompe il tabù. Lettera ai sacerdoti. È stessa per sempre la facoltà di assolvere le interruzioni di gravidanza. La svolta sia per le donne, sia per i medici. Francesco, se c'è pentimento, si può perdonare. E poi i commenti. È una mossa che guarda al terzo mondo. D'altro canto la Chiesa apre, ma il peccato non è declassato. Si legge appunto sulle colonne della prima pagina del messaggero. Che poi ancora a centropagina propone questa foto. Batosta, Sarkozy, addio politica. La vecchia Europa non resiste. Carlà, con solo il marito, a volte sono i migliori a perdere. Sempre in taglio medio, sgravi per assumere giovani nel centro-sud. Ecco come funziona. Pronti 530 milioni anche per i disoccupati. E poi in basso, Roma impanne i mezzi di protezione civile. Proseguiamo con il Corriere della Sera. Ecco l'apertura, aborto, il perdono del Papa, la svolta della Chiesa. I preti potranno sempre assolvere donne e medici. La lettera di Bergoglio. Un grave peccato, ma va aiutato. Chi vuole riconciliarsi. E poi i calcoli politici sbagliati nell'editoriale di Angelo Panebianco. Di spalla, un'altra analisi sulla vittoria di Trump negli Stati Uniti. I conflitti di interessi, banche, tasse e famiglia. E poi la fotonotizia. Il cielo nero di Mosul. L'Isis brucia i pozzi. La vendetta dei terroristi durante la ritirata dalla città. Referendum, Grillo, accuse e sospetti. Napolitano, sfida aberrante. E poi ancora in basso, sperperi e ritardi. Il disastro del Mose. A Venezia, commissario dell'Opera contro l'Acqua Alta. Anche lo Stato non ci aiuta. Avanti con la stampa che cambia il titolo di apertura rispetto ai quotidiani che abbiamo appena visto. Visco, sì o no, avanti con le riforme. Intervista al governatore di Banca Italia che rassicura i mercati in vista del referendum. L'agenda italiana non può cambiare. La politica non sia miope e rinunci agli slogan. E poi la fotonotizia con la cancelliera Merkel. Migranti e Islam. La Merkel volta pagina. Avanti con il tempo. Abortite pure. Il Papa vi perdona. I sacerdoti potranno assolvere donne e medici se pentiti. L'ultima lettera apostolica rivoluziona la Chiesa per la trentesima volta in tre anni. E poi Meloni e Salvini vincono le nostre primarie. Oltre 100.000 clic. Giorgia domina il sondaggio sul sito del Tempo. Matteo, quello sul portale. Gli libero. E poi la fotonotizia. La sindacalista è in malattia ma va in tv per l'assenteismo. Quinta Valle all'arena per parlare di Atac. Non ero nella fascia oraria dei controlli. L'avvenire misericordia sempre. Conversione per sperimentare l'abbraccio del padre. Aborto peccato grave ma ogni prete potrà assolvere. Chiaramente il titolo d'apertura non poteva che fare riferimento alla lettera di Papa Bergoglio. E poi questa anomala prima pagina del fatto quotidiano. La cozzaglia del sì. Signor cosiddetto presidente, scrive il direttore Marco Travaglio. Signor cosiddetto presidente del consiglio. Noi abbiamo sempre contestato la sua controriforma nel merito e mai sulle persone. Ma siccome lei continua a insultare i galantuomini del no con lo stupido argomento della cozzaglia. La serviamo come lei merita con un bel florileggio della cozzaglia del sì. Come diceva Sandro Pertini a brigante, brigante e mezzo. Avanti con il giornale. Toghe e scandali. C'è una garçoniere tra i guai del PM che indaga su Etruglia. Il procuratore di Arezzo utilizzava una casa finita in una inchiesta. La mossa del pontefice. Francesco chiude il giubileo e apre alla soluzione per l'aborto. E poi gioco sporco, stampa estera, terrorismo a favore del sì. Avanti ancora con Libero. I profughi a Zoppa Norenzi. Ecco chi deciderà il referendum. Il no è in vantaggio non per l'amore della Costituzione, ma perché i cittadini sono arrabbiati con il Premier. Gli italiani sono convinti che lo Stato pensi più agli immigrati che a loro. E in TV quelli del PD continuano a dirci che siamo razzisti. In basso le primarie del centro-destra organizzate da Libero e il Tempo. Tra Salvini e Meloni c'è un mistero fitto. 100.000 voti in un solo giorno. Lex Azzurro sul podio con i due leader anti-euro. Il manifesto, il buon pastore, l'ostilità della curia conservatrice, non ferma il Papa che abolisce di fatto la scomunica per le donne che abortiscono e consente ai sacerdoti di assolvere anche i medici. Questa è l'apertura del manifesto. Poi il mattino con le parole dell'ex Presidente della Repubblica, Napolitano, referendum, toni aberranti e poi anche aborto. Il perdono di Papa Francesco. Napolitano soccorre Renzi nel titolo di apertura della Gazzetta del Mezzogiorno. Il secolo XIX, visco riforme avanti che vinca il sì o il no. Il governatore, l'agenda italiana, non cambierà. Poi l'unità, Grillo, chi vota sì è un serial killer. Queste le parole del leader dei 5 Stelle. Poi la verità, le tasse che verranno dopo il referendum. Manovra aggiuntiva in corso per il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Possiamo lasciare la rassegna dei quotidiani nazionali. Le prime pagine, torniamo a parlare dei fatti più legati alla Regione Abruzzo e lo facciamo attraverso le colonne del centro. I veleni di Bussi, chi paga la bonifica. Il Ministro chieda i danni alla Edison, parla il Direttore Generale della Regione Abruzzo, Gerardis, che così replica i rilievi del dicastero dell'ambiente. E lo Stato, il soggetto competente a bonificare il sito, l'ente regionale, presterà la massima collaborazione a ogni attività di risanamento. Il risarcimento compenserebbe in ossequio al principio comunitario chi inquina paga. Gli stanziamenti di denaro pubblico già fatti e che arriveranno. Poi ancora il processo sulla mega discarica. Il caso del giudice Romandini è ancora all'esame del CSM. Nonostante l'archiviazione disposta dalla Procura di Campobasso sul Presidente della Corte d'Assise Teatina. Appende ancora l'azione disciplinare del Procuratore Generale di Cassazione. E poi in basso le rivelazioni in Commissione parlamentare. Bistecca e un litro di latte contro l'inquinamento. Il sindaco di Torre dei Passeri, il lavoro prevaleva sull'ambiente. L'audizione di D'Alfonso, l'impiego determinava consenso tra gli operai. La Procura c'era omertà con la fabbrica. Si viveva. Andiamo avanti. Abbiamo visto in precedenza la prima pagina del centro. E qui andiamo all'approfondimento. Multe a tutto gas. Alla piccola Dogliola, il record abruzzese delle contravvenzioni. Il comune del Chietino con 370 residenti. Nel 2014 ha incassato 212 euro per abitante. Nella top 5 regionale. Altri tre centri teatini. Teramo leader tra i capoluoghi. Poi Simone Baldelli, vicepresidente della Camera, aggiunge dispositivi piazzati spesso a tradimento per rilevare più verbali e fare cassa con la scusa della sicurezza stradale. E poi qui c'è la tabella che riguarda i comuni abruzzesi. Vedete Dogliola è in testa con 221,77 euro pro capite di incasso attraverso le multe. E Dogliola è 26esima nella classifica dei comuni italiani. Poi a seguire in Abruzzo ci sono Civita Dantino in provincia dell'Aquila, Tufillo in provincia di Chieti che sono rispettivamente 34esima e 65esima. E poi via gli altri comuni abruzzesi con gli incassi pro capite rispetto alla rispettiva popolazione e la posizione nella classifica generale. Sorprese e stupore, i sindaci non ci stanno. Queste le reazioni dei primi cittadini, dei comuni interessati. Questa è la reazione appunto alla classifica. Open polis, avanti ancora. Andiamo alle pagine della regione Abruzzo. Di Matteo non ci sta il partito, lo processa pronto a lasciare. 20 di crisi per D'Alfonso. Riunione del gruppo PD, l'assessore mette a disposizione le sue deleghe e oggi il vertice di maggioranza. E intanto Donato, inteso come Donato Di Matteo, incassa l'ok alle linee guida sull'urbanistica. Sempre tornando a questa probabile frattura tra il PD e l'assessore Di Matteo, i dem lo perdonano, restiamo coesi nelle riforme. Queste le parole del segretario regionale del PD, Rapino. Avanti ancora, tua al via al servizio merci, Manu Pello Novara. Accordo tra la divisione ferroviaria regionale e la società che gestisce l'Interporto. D'Amico, una opportunità per connettere il centro Italia con i mercati del nord. E su questo fatto abbiamo realizzato un servizio. Andiamo a vederlo. Rispettare la nuova normativa europea per il trasferimento del trasporto merci dalla gomma al ferro entro il 2020-2030 e implementare l'uso dell'Interporto di Manu Pello. Sono alcuni degli obiettivi del contratto firmato questa mattina a Lanciano fra Tua Sangritana e due leader del settore logistica FAS e Rattenni. Un contratto strategico per l'Abruzzo, come ha sottolineato il presidente di Tua, Luciano D'Amico. Lo abbiamo fatto per offrire una ulteriore opportunità strategica alla regione Abruzzo e alle regioni del centro Italia. Avviare il trasporto merci su ferro con modalità multicliente. Da due settimane, grazie a questo accordo, sono già in partenza dall'Interporto di Manopello tre coppie di treni al giorno. Contiamo non solo di aumentare i volumi, ma soprattutto di utilizzare in chiave strategica questa modalità di contratto. Siamo passati con l'accordo di oggi da una situazione di monocliente, cioè di attività per la Sevel, a poter offrire i nostri servizi su ferro a tutta l'imprenditore realità abruzzese. Oggi si sta dando a tutto il mondo produttivo abruzzese l'opportunità di poter cambiare il sistema di trasporto, passando dalla modalità tuttostrada all'intermodalità, con massima flessibilità e tempi di resa delle merci molto simili a quello dello stradale. Sul centro la cronaca di Pescara, emergenza smog, caldaie dei palazzi nel Mirino, maxi appalto del Comune, piano dell'amministrazione per finanziare le sostituzioni dei vecchi impianti. 6.000 controlli all'anno, ma i pescaressi sono attenti. I dati di Provincia Ambiente, società pubblica che effettua le verifiche nelle case, il direttore macchine di qualità discreta e manutenzioni regolari, mai una multa. Avanti ancora i pericoli del traffico, asse sempre più insicuro, ma i poliziotti sono pochi. Dopo l'auto contromano di domenica scorsa, ieri due cani a spasso sul raccordo. Il sindacato SIULP servono rinforzi per la polstrada sotto organico di 30 unità. E poi ancora sì al progetto per rifare le vie della Pineta, provate in giunta la riqualificazione dell'area intorno alla riserva. Pronti 412.000 euro della FATER. Vertice dopo il terremoto, scuole, ecco le urgenze, ma la provincia non ha soldi. I dirigenti degli istituti superiori hanno indicato l'elenco dei lavori indifferibili. Si prevedono tagli statali per 18 milioni, appello alla regione e al prefetto. E poi ancora flash mob dedicato ai giovanissimi, giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Pescara chiede il garante. L'ultima scommessa, un Kennedy Center sulle aree di Risulta, spunta un progetto al comune di Pescara di restyling da 43 milioni con 4.000 posti auto, terminal bus e galleria commerciale. Avanti ancora, commercio, marsili, 50 anni di attività o le chiavi di ogni carcere. Lo storico Fabbro, oggi ottantenne, è diventato un punto di riferimento del Ministero. Cominciò a realizzare porte blindate dopo una richiesta arrivata dal San Donato. Poi ancora, nelle pagine di Montesilvano, quartiere Ghetto, nuova ordinanza, i senegalesi di via Riosto verso lo Sgombero. Maragno firma per lo sfratto delle palazzine Tiglia e Viola, occupate da decine di extracomunitari. La causa ha le gravi condizioni igienico-strutturali degli alloggi. Poi crepe sui muri, chiude Unicredit, la filiale di via Europa costretta allo stop temporaneo dopo le recenti scosse. Avanti ancora, siamo sempre a Montesilvano, allievi geometri invitati al battesimo del ponte. Venerdì la presentazione della prima infrastruttura realizzata sul fiume Saline per snelliere la viabilità. Inaugurazione all'inizio del 2017, in arrivo altri due viadotti. E poi ancora a Francavilla, disoccupazione in crescita, Luciani contesta le cifre. Il sindaco boccia l'allarme lanciato da Leonzio sui dati del SIL messi in relazione trend non uguali in provincia. Ma stiamo lavorando. Avanti ancora, siamo a Penne, manifestazione regionale, diritti a rischio, lavoratori in piazza, sciopero del settore tessile abruzzese per il contratto arenato. In 400 si ritrovano nella città dell'Abrioni per protestare e anche in questo caso eravamo presenti con la nostra redazione di Vestina News. Allora andiamo a vedere il servizio. Oggi uno sciopero di autore qui a Penne a livello regionale. Che cosa si è bloccato in questa trattativa per il contratto nazionale? Questa trattativa si è bloccato tutto. Penso che rispetto alla nostra piattaforma presentata la controparte non ha voluto discutere. ha presentato quasi una contropriattaforma dove non solo c'è un problema del salario, che non vorrebbero darci salario per i prossimi tre anni, ma in contempo vorrebbero abolire o ridurre i diritti dei lavoratori oggi presenti nelle aziende. Noi chiediamo che il contratto nazionale sia garanzia di tutti i lavoratori, quindi del salario, delle normative, dei diritti dei lavoratori. Anche perché ormai è un contratto scaduto dal 31 di marzo e chiedere di demandare la contrattazione nel secondo livello, cioè nei contratti integrativi, in questo settore diventa difficile, non per qualcosa, perché l'80% di queste aziende, cioè di 420.000 addetti, l'80% non ha una contrattazione di secondo livello. Ci sono aziende che sono fortunate, cioè quel 20% che ce l'hanno, ma la maggior parte non ce l'hanno. Quindi se si va in un certo senso a togliere i fondamentali che ci sono nel contratto nazionale, questo va a creare problemi un po' a tutto il settore. Mentre noi chiediamo che questo settore si salva, se le aziende e le nostre controparti hanno una visione aggressiva rispetto al mercato, devono continuare a produrre qualità. Io non vorrei che questo denotasse una mancanza di idee rispetto, chiedono a noi, chiedono ai lavoratori in questo caso. Quindi noi contrapponiamo una visione che vede il futuro di questo settore nella qualità, nel lavoro, nell'impegno e non nella riduzione a tutti i costi dei costi e nel chiedere ai lavoratori di lavorare di più, di avere più flessibilità. Sarà un problema grandissimo perché comunque il contratto nazionale è un appoggio su cui tutti i lavoratori si appoggiano proprio per avere diritti e certezze. Se non ci sarà il rinnovo contrattuale sarà un problema veramente molto ma molto grande e molto grave. Andiamo verso la chiusura con le pagine del centro, siamo nella cronaca di Teramo, Tortoreto ucciso e bruciato, attirato in una trappola dagli assassini, la moglie di Di Silvestre sentita due volte dagli investigatori. Mio marito pensava solo al lavoro e alla famiglia, si indaga anche su presunte questioni economiche, sentiti molti conoscenti e familiari residenti a Tortoreto. Poi omicidio Cialini, via al processo Giulianova, un sessantenne alla sbarra, attenzione durante l'udienza preliminare. Pagine di Chieti, precipita davanti casa lo scultore Poglio in gravi condizioni, stava pulendo le sterpaglie, è caduto, urtando la testa. E poi ancora il caso del gas stoccato a nove pozzi in zona sismica, blitz delle Iene a San Martino. In basso, scarichi nel feltrino, sono un ecoreato. Legambiente chiede l'applicazione alla Sasi della legge sull'inquinamento ambientale. E poi ancora, rapinata dentro casa con la pistola alla testa, è accaduto a filetto, raid di due banditi che offrono anche l'acqua all'anziana. Poi le pagine dell'Aquila, inchieste post-sisma, appalti e favori. 13 a giudizio, il PM contesta la turbativa d'asta. Sotto accusa, imprenditori e funzionari comunali spuntano anche due casi di corruzione. Scagionati i costruttori Gizzi, Taddei e Nurzia, oltre ai dipendenti municipali Cafaggi e Pelliccione. Poi ancora accuse fondate solo sull'abili indizi. Le difese pronte a dare battaglia in aula, impossibile credere in una sentenza di condanna, dicono le difese. Poi, acque polemiche a Canistro. Santa Croce ha indagato il patron Colella, accusato di danneggiamento insieme all'amministratore Montanaro. Nessuna manomissione rispettata. La legge. E poi, ad Avezzano, tirpiome in una villa, muore l'autista. Un uomo di 55 anni ha avuto un infarto e ha perso il controllo. Sfiorato un pullman di linea. Finisce qui la prima parte di mattino 6. Ora spazio alle previsioni meteo e poi alla pubblicità. Quindi ci ritroveremo con la seconda parte di mattino 6. Eccoci rientrati con la seconda parte di mattino 6. Riprendiamo dal messaggero Abruzzo. D'Alfonso Di Matteo in conferenza stampa va in scena il siparietto. Battute al vetriolo tra i due. Ieri mattina insieme a Pescara il PD tenta di smorzare i toni. I panni sporchi si lavano in casa. Per l'urbanistica, ecco le linee guida del piano. Allora, vediamo subito il servizio realizzato ieri dal Tg6 relativo al nuovo piano urbanistico regionale. Dopo 20 anni ci sono le nuove linee guida per quanto riguarda materia urbanistica della regione Abruzzo. Una legge importante questa? Sì, ritengo che sia una legge importantissima. Questa legge è datatissima, 1983. Per cui diciamo che sono passati diversi anni e non è stata mai adeguata, mai aggiornata. Ci sono tante normative nazionali che hanno bisogno di essere ricomprese all'interno di questa legge e questo che stiamo facendo noi adesso. Inoltre, questa legge cercherà di superare quello che è il vecchio concetto di piano regolatore generale, perché in effetti è un piano che oggi tutte le amministrazioni hanno, però ingessa il territorio perché dà una serie di indicazioni che non sono più attuali ma sono veramente obsolete. Quindi questa è una legge che comunque dà questo tipo di indirizzo di introdurre nuovi modelli urbanistici che serviranno a alleggerire proprio il piano regolatore. Quindi ci sarà più partecipazione dei privati all'interno della gestione del territorio a livello comunale, fermo restando, diciamo così, il grande obiettivo della pubblica amministrazione di ravvisare l'interesse pubblico quando addiviene a questo tipo di concertazione con la proposta privata. Sul messaggero dati Istat, incidenti stradali in Abruzzo, 84 morti e 4.287 feriti nel 2015. Cronaca di Pescara, scrutatori amici salvati dalla casta. Lola Berardi a luglio la maggioranza boicottò la mozione mia e di Scurti per tutelare i più bisognosi tra gli iscritti all'albo. Il testo verrà ripresentato anche in risposta ai 5 Stelle ma per il referendum del 4 dicembre la selezione è chiusa. Quel documento fu congelato in aula con la scusa di approfondimenti e anche l'opposizione non fece obiezioni. E poi in basso a Redi risulta, questionario sul parco, parola ai cittadini sabato 3 dicembre, incontro pubblico al Museo Colone in collaborazione con la D'Annunzio. Poi garante per l'infanzia, basta ritardi. Ieri la manifestazione, il flash mob. Sempre a Pescara, tramito e decadenza, in via dei bastioni bancarelle al Bivio, a Portanova, a crolli e strutture patiscenti nel mercato coperto. Ambulanti pessimisti resistiamo per dare un futuro ai figli. Stalker, a 15 anni, le colpe della scuola, sportelli di psicologia minorile in tutti gli istituti, proposta di Giuseppe Orfanelli dopo il caso del ragazzo finito in carcere, è accusato di aver violentato e perseguitato la ex fidanzatina per lo psicoterapeuta. Anche le famiglie devono collaborare. E poi ancora, abbiamo visto in precedenza del servizio, e superi e contratto scaduto, la moda incrocia le braccia con lo sciopero di ieri a Penne, la manifestazione a Penne, per meglio dire. Funzionari comunali corrotti in 13 rinviati a giudizio. Siamo nella pagina della cronaca aquilana. Si sospetta la turbativa d'asta nei lavori di puntellamento, in alcune ricostruzioni, vortice di contestazioni a costruttori e impiegati, auto e viaggi come tangenti. L'imprenditore Elio Gizzi è stato assolto dopo aver scelto il rito abbreviato. E poi ancora il titolare della Transcom arrestato per fatture false, Roberto Boggio e il faccendiere Raffaele Pizza avrebbero tratto in errore l'Inps. Sempre restando all'Aquila, l'asse viario della città cambia faccia, ok gli accordi di programma che ridisegnaranno gli assetti di due zone cardine come Viale Croce Rossa e Via 20 Settembre. Molte attività sono destinate a traslocare nei nuclei industriali, previsto un parcheggio interrato che arriverà a San Basilio. Poi nella Marsica, ad Avezzano, scoperta fabbrica di sigarette false a Caruscino, trovati 19 macchinari sofisticati all'interno di un casolare pieno di strumenti. Quattro li indagati e sequestrata una quantità enorme di tabacco, oltre 6 tonnellate, provenienti da fuori Marsica. L'operazione è portata avanti dalla Guardia di Finanza della compagnia avezzanese. Siamo ora nelle pagine di Chieti, rapinano in casa un'anziana e le offrono un bicchiere d'acqua, notte da incubo per la zia del sindaco di Filetto. Avevano anche una pistola dai banditi, pure un gesto gentile verso la proprietaria, portati via i gioielli in oro. I due malviventi indossavano delle mascherine, non ti leghiamo perché stai facendo la brava, hanno detto alla vittima. Dei vincenti i soldi ci sono per la Filovia, il sottosegretario rassicura sul masterplan, il PD rivendica la paternità degli interventi. Ieri il sottosegretario era a Chieti, lo abbiamo intervistato. Un lavoro iniziato nell'agosto 2015 quando la giunta ad Alfonso per la prima volta si è seduta davanti al sottosegretario, al Consiglio dei Ministri, per discutere del masterplan Abruzzo. Claudio De Vincenti spiega la genesi che ha portato alla sottoscrizione da parte del premier Renzi dei 77 progetti del valore di un miliardo e mezzo di euro nel corso della sua visita a Chieti. Lavorando al masterplan che idea si è fatta dell'Abruzzo come infrastrutture e anche come investimenti? Ho fatto un'idea dell'Abruzzo come di una regione che può trainare proprio questa ripresa italiana di cui parlavamo ora. Il masterplan, il patto per l'Abruzzo è un patto costruito molto bene, con priorità chiare, solido, che dà veramente il quadro per la ripresa oggi e la crescita stabile domani di questa regione. Segnalo che in questi ultimi due anni l'Abruzzo è cresciuto più della media nazionale. Un pomeriggio fitto di appuntamenti per il sottosegretario De Vincenti, Camera di Commercio di Chieti, Porto di Ortona, Comune di Spoltore e poi due dei più grandi imprenditori del tessuto economico abruzzese. Visita lo stabilimento Valtertosto e a seguire gruppo Toto Holding. Poco incontrerà tre dei imprenditori più importanti d'Abruzzo. Queste visite che finalità hanno? Beh, di fare un punto sulla ripresa produttiva, sulle prospettive industriali. La politica industriale è un perno fondamentale del masterplan e noi abbiamo bisogno che le imprese investano per far crescere il territorio. Il senso degli incontri è questo. Trasporto merci, accordo tua IRF, un'intesa a sostegno dell'economia regionale sottoscritta con la intermodale Fassa Rattenni, azienda di Manopello, la società altamente specializzata nel settore trasporto dei carichi voluminosi a livello nazionale e internazionale. Poi ancora, andando avanti e passando alle pagine di Teramo del messaggero, Delfico, tutti in classe dopo la paura al liceo, ho chiesto l'intervento dei vigili del fuoco a causa di alcuni calcinacci che avevano fatto scattare l'allarme. Il sopralluogo ha chiarito che non si trattava di effetti del recente sisma, consentendo la ripresa delle elezioni. Una volta passata l'emergenza post-sisma, il primo cittadino convoca la cabina di regia con tutti i portatori di interessi. Poi sempre il sindaco Brucchi, convenzione con gli ingegneri per le verifiche sugli immobili privati, contatti avviati con il commissario alla ricostruzione Errani per avere più mezzi sul territorio. E a Giulianova, a caso Cialini, rito abbreviato per l'omicida. Il 21 dicembre il processo che vede imputato il caldaista Dante Di Silvestre che il 14 giugno scorso uccise l'uomo davanti agli occhi della figlioletta. La decisione ieri mattina al termine dell'udienza preliminare davanti al gruppo Giovanni De Renzis che ha rigettato tutte le eccezioni. Il diverbio stradale in via Verdi a pochi passi dall'abitazione della vittima. Lasciamo il messaggero e andiamo ora a sfogliare la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Tutti in classe nel secondo primo giorno di scuola. San Giuseppe e Savini riprendono le lezioni alla Molinari, dettagli da sistemare su traffico e sicurezza. Al secondo piano evacuato dall'asilo nido per motivi di sicurezza in caso di emergenza arriva ora la materna della San Giuseppe con tre bimbi disabili. Stesso il problema con le scale. E qui vediamo alcuni scatti della giornata di ieri che è stata un po' anche una giornata di festa dopo la grande paura. E allora vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione Teramana. E dopo tante ordinanze di sgombero, chiusura a scuole di questi ultimi drammatici 20 giorni a Teramo arriva il primo raggio di sole. 835 alunni delle scuole Savini e San Giuseppe dichiarate per sempre inagibili dopo il terremoto del 30 ottobre riassaporano il gusto di tornare tra i banchi di una nuova e bella struttura la Molinari che per anni ha ospitato la facoltà di veterinaria dell'Università di Teramo un edificio sicuro e moderno. Tanti ragazzi hanno cambiato scuola, è vero, sono venuti qui però oggi è un giorno di festa, come è andata l'entrata? Allora l'entrata è andata benissimo non abbiamo avuto nemmeno i problemi che pensavamo di avere tipo il traffico, problemi logistici invece devo dire che non ce ne sono stati i ragazzi sono entusiasti ma la festa vera è iniziata ieri con l'apertura della scuola ai genitori quindi si sono tranquillizzati i genitori sono rimasti entusiasti della struttura, dell'accoglienza che hanno avuto il più bel messaggio ce l'hanno dato i nostri ragazzi del coro, dell'istituto comprensivo quando in Donando Ungando hanno concluso dicendo il domani già qui quindi la scuola che si basa sulla pedagogia deve nutrire sentimenti di speranza non possiamo solo vivere di negatività che abbiamo vissuto in questo periodo veramente triste noi vogliamo ricominciare vogliamo riannodare quei fili che si erano spezzati con il terremoto vogliamo ricominciare a ricostruire una relazione educativa con i nostri alunni e anche con i genitori quindi sì è vero è un giorno di festa oggi è davvero un giorno di festa per i piccoli alunni della Molinari di Teramo per loro la scuola è casa una certezza incrollabile sempre sulla città psicosi, scuole sicure calcinacci dal deltico controlli e transenne intanto la provincia ha messo in preventivo quasi 4 milioni di euro di lavori per sistemare i problemi c'è un problema noto dal 2009 è alla facciata ai pieni superiori dichiarati inagibili e non utilizzati già oggetto di due interventi di messa in sicurezza dopo le scosse del 24 agosto e del 30 di ottobre poi ancora primato di sangue per le strade terramane pedoni investiti nel capoluogo e incidenti sulla costa in un anno il numero dei morti è quasi raddoppiato chiesto il processo per il crack di Mario bancarotta e reati tributari altri guai per l'immobiliarista Morisano e per Di Matteo ex direttore Tercas le contestazioni bancarotta fradolenta per distrazione bancarotta preferenziale e reati tributari 36 imputazioni assieme al manager e all'ex DG coinvolti soci, amministratori e altri prestanome delle società del gruppo avanti ancora con il giallo di Tortoreto Demetrio di Silvestre attirato in una trappola si segue la pista terramana il piastrellista forse è stato ucciso da qualcuno che stava aiutando non è escluso che l'omicidio sia avvenuto nel Terramano e che il corpo sia stato trasportato fino al monte Ascensione non è escluso che l'assassino possa essere legato in qualche modo a Tortoreto la donna di Cialini urla in aula il suo dolore il caldaista che ha ucciso l'informatico Giulia si è a processo il 21 dicembre il GUP ha rigettato le richieste della difesa che chiedeva l'esame dei consulenti di parte dunque al via il processo con rito abbreviato dal prossimo 21 dicembre la coltellatrice di Atri resta in carcere durante l'interrogatorio di garanzia Daria Verrigni sceglie di non rispondere alle domande del giudice la ragazza avrebbe accoltellato al polmone il compagno durante una lite per motivi di gelosia è accaduto tutto questo a Ventimiglia in provincia di Imperia dove la coppia si era trasferita da poco a Pineto invece è aperta l'inchiesta sul rogo al consorzio AM la magistratura indaga contro ignoti per incendio doloso oggi il sopralluogo del sostituto procuratore mezz'ora prima del rogo è scattato l'allarme che ha segnalato la presenza di un intruso all'interno degli impianti dell'AM l'incendio è scoppiato martedì sera distruggendo un capannone di 2000 metri quadri pieno di cartacei andiamo con lo sport il terramo passa nelle mani di Bolla presentato ieri il nuovo responsabile dell'area tecnica Biancorossa quando mi hanno chiamato pensavo di essere su scherzi a parte ha detto il neo responsabile dell'area tecnica del terramo e poi c'è il precedente quella finale per la C1 persa contro il Chieti di Bolla persa dal terramo chiaramente il direttore tecnico giocava col Chieti che vinse i playoff contro il diavolo dell'allora presidente Malavolta andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata ieri al neo dirigente terramano Alec Bolla direttore Bolla innanzitutto benvenuto a Teramo sai che ti aspetta un grande lavoro e manca davvero poco tempo all'inizio del mercato questa nuova avventura come la intravedi? innanzitutto grazie per il benvenuto speriamo in bene incrocio le dita so che sarà un'annata difficile sarà anche un mese difficile questo dove bisognerà capire effettivamente se intervenire e dove intervenire credo però credo una cosa credo che chi ha costruito questa squadra l'abbia fatto in maniera importante in maniera ottima perché comunque fanno parte tanti giocatori che hanno uno spessore umano molto alto e io credo che in questo momento dove le cose vanno un po' meno bene perché 13 punti capisco che per la squadra e per il Teramo sono pochi però credo anche che ci sia una buonissima organizzazione una buonissima prospettiva già da questa rosa ecco il marchio di Alec Bolla sarà anche un po' di discontinuità a gennaio rispetto al recente passato oppure magari proseguirai sulla linea della continuità cioè tenendo non facendo scelte radicali nel mercato di gennaio credo che gli equilibri in uno spogliatoio in una rosa siano fondamentali ecco quindi devo capire e vorrei capire determinate situazioni determinati meccanismi dopodiché capiremo se alcuni giocatori rimangono con la testa giusta vogliono entrare con la testa giusta vogliono andare via devo capire ancora un pochino queste cose è chiaro che qualche idea qualche idea ce l'ho e qualche idea la porterò avanti e probabilmente la metterò anche in atto dei giocatori fortunatamente ne conosco parecchi però ecco io vorrei ripartire cioè partire nella mia nuova avventura considerando e in maniera anche importante i giocatori che ci sono in essere sempre nella conferenza di presentazione del neodirigente Terramano ha parlato anche il presidente Campitelli che si è sfogato mi consideravano Dio durante la conferenza laconico il patron da solo non posso più continuare a lottare lasciamo la città e vediamo le pagine sportive di centro e messaggero ecco qui sul centro si parla chiaramente di Pescara in questa due pagine tempo limitato il Pescara dura poco fatali gli ultimi 30 minuti analisi dei gol subiti 18 su 25 nella ripresa di cui 16 dal quindicesimo in poi nel secondo tempo la squadra non regge il confronto tra carenze di tenuta atletica e amnesie difensive la carica di Zampano nei momenti difficili si vedono le vere squadre e i veri uomini e poi c'è anche Biraghi stage a tinte biancazzurre da oggi a Coverciano il raduno voluto dal CT della Nazionale Ventura per i giovani più interessanti oggi e domani lo stage e poi Leone il neo DS da quest'anno tra GAF e squalifica ora l'esame di riparazione in estate il lavoro del DS è stato impalpabile a gennaio sarà fondamentale sta ancora scontando l'inibizione ereditata dall'ultima stagione a Lanciano e poi anche sul centro l'articolo per la presentazione di Alec Bolla ecco Bolla io e il Teramo un'occasione per il rilancio ho presentato il nuovo DS che conferma a gennaio ci sarà qualche movimento il patron Campitelli se ci crediamo possiamo lasciare i bassi fondi della classifica e poi dopo il derby del Girone G di domenica scorsa Battisti l'Aquila d'Acciaio De Angelis che a Vezzano parlano i due DS il rosso-blu la nostra squadra non muore mai e lotterà per la promozione quello bianco-verde bisogna essere orgogliosi di questo gruppo piace pedalino attaccante ora al Monticelli per la pallacanestro il pubblico è fulso orgoglio e ansia del Roseto Sharks che entusiasmo in 4.000 domenica al Palamaggetti oggi gli esami del capitano alle prese con noi muscolari di Cosmo Proger ora pretendo continuità di risultati a Piacenza ho visto all'opera un grande Chieti contro Treviso voglio stesso impegno e Palasport pieno e ora vediamo anche le pagine del messaggero c'è il mercato in ottica Pescara il Pescara torna su Bobo che era un obiettivo di mercato estivo anzi a un certo punto era praticamente vicinissimo il suo acquisto vicinissimo alla sua firma contatti con il difensore del Toro in scadenza di contratto piace anche il centrale francese Thomas de Langer in attacco fa ripuntati sui croati Petkovic e Budimir e gli argentini blandi del San Lorenzo e Bou del Racing Campagnaro niente Roma e Ghiomber non ce la fa dunque difesa a pezzi anche domenica contro la Roma il DS Leone in missione in Sud America per cercare rinforzi per gennaio e poi sul fronte Lega Pro Campitelli Furioso Teramo sono stufo delle critiche show del presidente alla presentazione di Bolla sono stato io a dire al tecnico che doveva giocare Fratangelo che poi è stato il match winner della gara contro l'Ancona Serie D Stese in testa il sogno continua San Maurese battuta con una gara solida grazie a Cosenza il gol che vale il primato è una grande gioia ma non mi illudo e migliorano in fretta le condizioni del portiere russo dimesso già domenica sera dall'ospedale di Cesena dopo uno scontro di gioco con un difensore della San Maurese sempre il post derby Girone G Tortora Avezzano un segnale importante morge il pubblico dell'Aquila merita la promozione i gol segnati nel finale sono segno di carattere sempre per la Serie D San Nicolò Betta vicina ma quanti rimpianti il pareggio con la Iesina il nono risultato utile consecutivo ma gli uomini di Epifania hanno sprecato una grande occasione domenica prossima per la sfida con l'Agnonese potrebbe tornare in campo Napolano il Pineto invece torna a credere nella salvezza dopo la vittoria sulla Civitanovese per il basket Roseto sconfitta in dolore ma il pubblico è da record Proger la risposta che Galli aveva chiesto il coach successo voluto ma intorno a noi c'è troppa negatività noi ci fermiamo qui con l'appuntamento odierno di mattino 6 vi ricordo i momenti informativi con la nostra emittente alle ore 14 alle ore 19 alle ore 23 le tre edizioni principali del TG6 poi vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle ore 21 in diretta con Jacopo Forcella la trasmissione Pro Teramo chiaramente il tema principale sarà la presentazione del neo responsabile dell'area tecnica terramana Alec Bolla in quello che è un martedì di vigilia per la gara di Coppa Italia di domani del Teramo contro il Siena grazie a Gianni D'Areo in regia e grazie a voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata buona giornata buona giornata grazie a tutti grazie a tutti